Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, tra i più noti presentatori della televisione italiana, ha iniziato la sua carriera negli anni Ottanta conducendo programmi per bambini come 3, 2, 1, Contatto, e soprattutto BimBumBam, che gli porta grande notorietà sul piccolo schermo. Ha poi condotto svariati programmi di successo, sia per le reti RAI che per Mediaset, tra cui Beato tra le donne, I Cervelloni, Tira e Molla, Ciao Darwin, chi ha incastrato Peter Pan striscia la notizia, Affari tuoi, Domenica Inn, Il senso della vita, e avanti un altro. È stato inoltre presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo nel 2005 e nel 2009. Insieme all'amico e collega Luca Laurenti, con il quale collabora dal 1991, forma una delle coppie più longeve e apprezzate della televisione italiana. I due hanno condotto insieme anche il 59esimo Festival di Sanremo. Si tratta di scelte che naturalmente il tempo può cambiare, ma devono essere smussati questi cambiamenti in funzione delle persone che non ti hanno chiesto di venire al mondo. Continuando, Paolo Bonolis ha dichiarato cosa non accetterebbe mai come padre, di andare contro i miei figli. Non lo accetterei mai. Non lo accetterei mai. Non potrei farlo. Preferisco rinunciare io a qualcosa come ho rinunciato, in favore, di loro. A me è rimasto uno spiraglio di esistenza, mentre loro ce l'hanno tutta davanti quindi è giusto che se la godano. È cambiato il modello di padre nel tempo? No. Sono cambiate le esigenze delle persone nel tempo. C'è molto più ego riferimento, quindi molto spesso si perde di vista il percorso nel quale vengono chiamate in causa altre persone nelle proprie scelte. Grazie. 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 Grazie.